John Borno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Armenia Italia 1-3 Ieri sera nel primo tempo abbiamo fatto letteralmente schifo Non ci ho creduto, abbiamo fatto segnare l'Armenia in quel modo Era un bel gol sì, ma la difesa doveva fare qualcosa di meglio Il gol di Belotti sì è stato bello perché ha fatto davanti alla porta Boom, gol Il gol del 2-1 è stato bellissimo praticamente, il gol di Belotti E poi il gol del 3-1 è stato ancora più bello Una cosa vorrei dire, il gol del 4-1 valeva perché era in gioco Belotti Però cornuto che sei arbitro Adesso dobbiamo andare a giocare in Finlandia Cerchiamo di farcela perché dobbiamo andare a quest'europeo Non facciamo come ho fatto con il mondiale perché mi hanno fatto veramente schifo Sono contento di questi ragazzi Se fosse stata l'Italia di ventura perdevamo sicuramente Ma adesso siamo più forti, siamo più tecnicati Abbiamo tutto adesso e credo in questi ragazzi che possiamo arrivare all'europeo Comunque il video è qui, grazie a tutti i miei dati, posso cittare?